Salve e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teleradio Canicatì. Un saluto dalla redazione, lo avete sentito anche dai titoli, commozione, sgomento, aggela, dove una donna di 41 anni, insegnante precaria, ha ucciso le sue figlie di 9 e 7 anni e poi ha tentato il suicidio. Ma è stata salvata dal marito che si è precipitato a casa in via Passaniti quando ha capito che c'era qualcosa che non andava. I dettagli e le immagini. I corpicini di Gaia, 7 anni, e Maria Sofia, 9 anni, sono stati trovati a terra senza vita. Vincenzo Trainito, 48 anni, era appena rientrato a casa. Ha fatto in tempo a salvare la vita alla moglie Giuseppa Savatta, 41 anni, che dopo aver fatto bere alle due piccole della candeggina, ha tentato di suicidarsi bevendo lo stesso liquido e cercando poi di gettarsi dal balcone. È stata fermata da quel marito attonito e devastato che per le sue due piccole di casa invece non ha potuto fare nulla. Le ha trovate ancora con il pigiamino rosa addosso, in due stanze diverse della casa. Sarebbe stata la stessa moglie ad avvertirlo prima di mettere in atto il suo proposito suicida, ma su questo, come su altri particolari della terribile vicenda, si sta indagando. La tragedia, che si è consumata in un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Passaniti a Gela, potrebbe essere stata provocata da una crisi depressiva, forse più acuta delle altre, che avrebbe colpito Giuseppa Savatta. Un male oscuro, capace di penetrare nel più profondo dell'anima e della mente, e che nelle forme più gravi, può purtroppo portare a conseguenze così tragiche. Anche il padre della donna, qualche anno fa, era morto suicida. Una famiglia, come si direbbe normale, quella dei trainito Savatta, lui ingegnere e docente in un istituto privato di Gela, lei insegnante di sostegno precaria in un istituto di capo soprano. E quelle due bimbe, arrivate al completamento di un quadro familiare, a cui sembrava non mancare proprio nulla. Eppure non tutto era così in ordine come sembrava. Secondo qualche vicino di casa, pare che la donna sopprisse da tempo di depressione una patologia, che però non risulterebbe essere mai stata certificata. La donna, adesso ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale Vittorio Emanuele, non è in pericolo di vita, ma è piantonata dalla polizia. Sarà il medico legale Cataldo Ruffino dell'Istituto di Medicina Legale di Catania ad eseguire l'autopsia sui corpi di Maria Sofia e Gaia, le due sulle linee di 9 e 7 anni, uccise dalla madre Giuseppa Savatta nella propria abitazione di Gela. Il medico dovrà stabilire in particolare se le bambine sono decedute per avvelenamento, essendo state costrette alla madre a bere candeggina o per soffocamento. Intanto i carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno notificato l'ordine di arresto per duplice omicidio volontario aggravato dalla discendenza, emesso dal procuratore capo Fernando Asaro, nei confronti della donna, la 41enne che ieri ha ucciso le sue bambine, avvelenandole con candeggina e soffocandola con le mani. La donna è ricoverata ancora in ospedale dopo il tentativo di suicidio, i carabinieri continuano a piantonarla nel suo letto della divisione di psichiatria del Vittorio Emanuele di Gela, dove i medici l'hanno accolta ancora in preda a turbe suicida, sottoponendola a terapia sedativa. L'ipotesi dello psichiatra è che sia un soggetto dalla personalità bipolare, donna e madre modello nella società e nel lavoro, violenta e possessiva fino all'omicidio nel privato. Due persone originari di Gela sono state arrestate per furto aggravato in concorso dopo aver razziato un vigneto in contrada a Palazzello nelle campagne di Granieri. I due ladri sono stati sorpresi dai carabinieri mentre erano intenti a caricare in auto ben 600 kg di uva da tavola rubati poco prima all'interno di un fondo di proprietà di un viticoltore calatino. La merce è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati in attesa di giudizio sono stati messi ai domiciliani. Grande commozione da Grigento per i funerali di Marco Migliotto, il ragazzo di 26 anni morto nell'incidente stradale alla vigilia di Natale sulla panoramica dei templi. La chiesa di San Gregorio non è riuscita a contenere tutte le persone che hanno voluto rivolgere l'ultimo saluto al giovane, si sono stretti attorno ai genitori e ai familiari. Amava la sua terra, studiava a Pisa ed era tornato a casa con il fratello per trascorrere le festività con i familiari, un ritorno a casa che gli ha costato la vita. Gli agenti della stradale hanno lavorato per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente. La procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda i cui contorni appaiono poco chiari. Intanto gli amici che hanno affollato anche il piazzale della chiesa dove tra le lacrime e gli applausi si è fatta strada la bara. Presenti gli agenti, i colleghi della Polizia Municipale di Grigento dove il papà di Marco presta servizio. Mentre a Sciacca si sono svolti i funerali del 27enne Domenico Raneli. Incidente stradale autonomo lungo la 115 all'altezza del Bivio per Piana Grande in territorio di Ribera. Un Apollo con quattro persone residenti al nord Italia è uscita fuori dalla carreggiata dopo aver letteralmente scavalcato il guardrail. L'utilitaria grazie alla presenza di alcuni arbusti anziché a precipitare sulla sottostante scarpata è rimasta praticamente incastrata. Lanciato l'SOS da un agrigentino di passaggio sul posto si sono precipitate da Ribera e da Siculiana più ambulanze del 118 e da Caltenisetta si è levato in volo un elisoccorso. Si è temuto il peggio, in due erano inizialmente rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno trovato due degli occupanti fuori dalla vettura appoggiate al guardrail di fatto sotto shock. Tutti e quattro gli occupanti dell'Apolo sono rimasti però miracolosamente lesi. Si tratta di persone residenti al nord Italia ma con parenti a Sciacca. Ed è proprio in direzione Sciacca lungo la statale 115 che si è verificato il terrificante incidente stradale autonomo. Il nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo in esecuzione dei provvedimenti emessi dalle misure di prevenzione del Tribunale sulla base di indagini eseguite sotto il coordinamento della Procura del Capoluogo. Sezione misure di prevenzione ha sequestrato nelle province di Palermo e Trapani appartamenti, magazzini, cassette di sicurezza e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa un milione di euro. Beni riconducibili a un esponente mafioso e due professionisti prestanome della criminalità organizzata. I sequestri sono stati eseguiti dal GICO nei confronti degli eredi dell'avvocato Marcello Marcataio, di Francesco Cuccio e Giampiero Scozzari. E sono stati confiscati definitivamente i beni di Arturo Messina di Villa Seta deceduto dal 2008. La sentenza della Corte di Cassazione è stata emessa poco prima delle festività natalizie. A presentare ricorso in Cassazione erano stati gli eredi. I familiari sono stati assistiti dall'avvocato Salvatore Pennica che ha sostenuto la legittima provenienza dei beni. Il provvedimento riguarda conti correnti, terreni ed una avviata attività aziendale. Il tutto per un valore stimato in 5 milioni di euro. Ladri di rame in Contrada, Rocca di Mandorla e Giuliana alla periferia di Canigatì. Gnoti hanno portato via diverse quantità di cavi elettrici. Al buio le abitazioni delle due zone rurali e i disagi per i residenti. Che sono rimasti completamente al buio e senza energia elettrica. Sugli episodi indagano le forze dell'ordine. Piccato e rapinato in casa da quattro banditi con il volto coperto attorno alle 5. Il parroco dello Zen, Miguel Pertini, nipote dell'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. Il saggiardote è stato colpito alla testa ed ha riportato un ematoma. Condotto al pronto soccorso è stato dimesso dopo la medicazione. Il religioso è stato sorpreso mentre dormiva. Si sono fatti consegnare i ladri 300 euro in valuta argentina e 100 euro in contanti. Erano intervenuti per soccorrere tre ragazzi rimasti feriti. Non si vede però la pressione di misure cautelari. Vediamo i dettagli. E se sussittesse quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quest'ultimo non consente la custodia cautelare. E questo in sintesi quanto emerge dalla lettura delle motivazioni del Tribunale, dell'esame di Palermo, dell'ordinanza con cui ha annullato l'ordine di custodia cautelare in carcere per estorsione nei confronti dell'avvocato Giuseppe Arnone, ex consigliere comunale di Agrigento e leader ambientalista. Ora una condotta così veicolata tra cinque avvocati e una richiesta di denaro avanzata e soddisfatta con assegni circolari, peraltro poste in essere da un avvocato penalista, non appare certo in maniera univoca sintomatica del dolo richiesto della norma, non solo quella di cui è l'articolo 69 del codice penale, ma anche di quella di cui è l'articolo 393, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, scrive il Tribunale, aggiungendo che l'articolo 393, primo comma, non consente la custodia cautelare. Arnone era stato arrestato il 12 novembre con l'accusa di estorsione alla collega Francesca Picone. Affermarlo all'uscita dello studio della donna, dove aveva intascato due assegni per un importo di 14.000 euro, erano stati i poliziotti alla squadra mobile di Agrigento. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata firmata dal GIP Francesco Provenzano. Secondo la procura, quei soldi sarebbero state le prime due rate di una tangente da 50.000 euro che Arnone avrebbe storto a Picone, per non alzare clamore mediatico su una pregressa vicenda giudiziaria che vede la donna imputata per irregolarità nei confronti di una sua cliente, successivamente assistita proprio da Arnone. L'indagato aveva sempre affermato che quegli assegni erano legittimi e dovuti nell'ambito di una transazione tra l'avvocato Picone e la sua cliente, che non si sarebbe costituita parte civile nel processo all'avvocatessa imputata di estorsione. Furto in una villetta di via Mulea a Caltanistetto, i malviventi avrebbero asportato preziosi soldi. Ad accorgersi il proprietario, il quale una volta era entrato a casa, dopo aver aperto la porta, ha subito notato che tutte le stanze dell'abitazione erano state messe a suo quadro. L'uomo ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine e sembrerebbe che i malviventi si siano introdotti da una finestra. Non si hanno ancora notizie di Vincenzo Bono, l'allevatore sessantenne, scomparso dal 25 novembre, giorno in cui un violento nubifragio ha investito la città di Sciacca. Le ricerche adesso si sono spostate di un centinaio di metri rispetto alla contrada Mucciare, dove è stata ritrovata l'auto distrutta dell'allevatore. La speranza è di restituire il corpo alla famiglia che da oltre un mese non si dà pace. Le figlie di Bono, Giuse e Vitalba hanno più volte fatto appelli affinché le ricerche vadano avanti e l'attenzione resti alta. Pietro Bartolo, il medico eroe di Lampedusa, ha conosciuto e visitato Anis Amri, il terrorista della strage di Berlino. Lo ha raccontato a Capri, dove si trova per ricevere l'umanitare Howard. Il protagonista di Fuoco a mare, il documentario di Gianfranco Rosi in corsa per l'Oscar, ha detto di aver conosciuto Amri nella foto pubblicata sulle prime pagine di tutti i giornali. Il terrorista era tra i minori che appiccarono l'ingendio alla casa della Fraternità della Parrocchia di Lampedusa, dove era arrivato nel febbraio del 2011. Certo, l'ho riconosciuto perché l'ho visitato, come visito tutti, sono arrivato a quota 300.000. In 25 anni credo di avere un record mondiale, racconta Bartolo, che tiene a ricordare che i terroristi, spesso ce li abbiamo in casa, non arrivano sui barconi ma appartengono a strati sociali più elevati. Solo 24 ore fa, detto il medico, ero davanti al cadavere di un ragazzino tunisino di 16 anni, morto a pochi metri dai nostri scogli perché non sapeva nuotare una storia che nessuno ha raccontato. E oggi sono a Capri a portare la mia testimonianza, credo sia la cosa più utile a questo punto che io possa fare. Operazione antidroga alla vigilia di Natale dei Carabinieri di Favara. I dettagli sono stati resi noti ieri nel pomeriggio durante una conferenza stampa che si è svolta presso il comando provinciale dei Carabinieri. Cinque persone arrestate, altre due ricercate. Ieri si è costituita anche la marocchina Rania El Moussadi. Vediamo. La Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, la vigilia di Natale, ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei soggetti residenti ad Agrigento, Favara e Porto Empedocle per il reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di superfacenti e spaccio di droga. I soggetti colpiti dalle ordinanze di custodia cautelare in carcere sono i Favaresi Carmelo Fallea, classe 1975, Calogero Presti, classe 1973, Carmelo Vaccaro, classe 1978 e l'Empedoclino Stefano Sacco, del 64. Il quinto soggetto colpito da custodia cautelare agli arresti domiciliari è il Favarese Gaspare Indelicato, classe 1982. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica della Direzione di Stettuale Antimafia di Palermo, Claudio Camilleri, e condotta dal nucleo operativo radiomobile di Agrigento e dalla tenenza di Favara dall'aprile al novembre 2014, ha portato all'individuazione di una organizzazione criminale operante in provincia dedita al traffico di cocaina e hashish che dal Belgio e da Palermo faceva pervenire regolarmente presso Favara per poi distribuire le sostanze stupefacenti al dettaglio. E' stato proprio il percorso che seguiva lo stupefacente verso il basso dal nord dell'Europa all'Italia a dare il nome all'indagine Up and Down. Carmelo Fallea acquistava lo stupefacente leggero del tipo hashish da soggetti palermitani che mediante dei corrieri lo facevano poi arrivare a Favara, dove lo stesso si avvaleva di alcuni soggetti come Calogero Presti o l'Empedoclino Sacco per occultarlo in luoghi sicuri a lui e non riconducibili. Ma anche per venderla a dettaglio agli spacciatori locali. Il referente dell'organizzazione palermitana presso la quale veniva acquistato lo stupefacente era Vincenzo Giudice, già arrestato nel maggio del 2015 a conclusione dell'operazione Verbero condotta dal reparto operativo a Palermo con cui tuttavia non vi era un filo diretto. Era infatti una donna residente da Grigento, ma di origine marocchine, Rania El Moussaid, con la quale Giudice intratteneva un rapporto sentimentale e che riteneva persona di fiducia che curava le comunicazioni tra il palermitano e il favarese Fallea. La cocaina invece proveniva circa una volta al mese dal Belgio, occultata all'interno di pacchi spediti ovviamente con destinatari e mittente fasulli tramite le diverse società di trasporti e traslochi che regolarmente compiono viaggi da e per il Belgio, a favore soprattutto di molti emigrati favoresi presenti nel paese. Giunti a destinazione, i pacchi venivano ritirati direttamente presso il deposito degli spedizionieri che fungevano del tutto ignari da corriere. Il pagamento della sostanza veniva effettuato da Fallea, che personalmente si recava a tal fine in Belgio, accompagnato da Vaccaro, che fungeva anche da ausilio per lo spaccio della sostanza giunta in Italia. Durante il corso dell'indagine sono stati effettuati l'arresto nel giugno 2014 di Calogero Presti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il sequestro di 20 chili di hashish e l'arresto di Ignazio Blandino, avvenuto nell'agosto 2014 appena sbarcato a Lampedusa, proveniente da Porto Empedocle, dove aveva appena ricevuto 50 grammi di cocaina da soggetti dell'organizzazione oggetto dell'indagine. Un ulteriore sequestro di un chilo di cocaina e quattro chili di hashish è stato effettuato nel settembre 2014. Proprio mediante questo sequestro è stato accertato alla metodologia di spedizione dal Belgio all'Italia attraverso ignare compagnie di trasporto favoresi. Lungo la strada tra Canigazianaro e carabinieri alla polizia hanno intercettato e bloccato un'automobile con a bordo due uomini travisati. Uno di 17 anni è stato arrestato, l'altro è fuggito e si è delegato nella campagna circostante. Sono stati sequestrati due pistole, calibro 7,65, una rubata, l'altra in corso di verifica. Gli investigatori ipotizzano che i due fossero pronti a compiere una rapina a danno di un corriere in transito. Adesso è stato denunciato anche il presunto complice del 17enne, si tratta di un uomo di 39 anni di Canigatti, il quale si è autonomamente consegnato ai militari che lo avevano individuato recandosi a casa sua. Torniamo con il telegiornale, si riunisce stasera il Consiglio Comunale di Canigatti in discussione il piano triennale delle opere pubbliche. Intanto questa mattina sono stati pagati gli stipendi ai dipendenti delle tredicesime grazie alla scopertura di cassa che passa da 6 milioni a quasi 10 milioni di euro. Siamo in servizio. Torna a riunirsi questa sera alle 19 su convocazione del Presidente Alberto Tedesco il Consiglio Comunale di Canigatti. L'ultima seduta del 2016 servirà ad approvare il programma triennale delle opere pubbliche, atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2016. Sei i punti all'ordine del giorno. Tra questi, oltre alle comunicazioni del Presidente e alle interrogazioni dei consiglieri, gli argomenti più rilevanti sono quelli che riguardano il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale, praticamente inutile perché l'anno è già finito. Ed ancora il riconoscimento del debito fuori bilancio, sistemazione delle carte contabili riferite ad ordinanze di assegnazione delle somme su proposta della dirigente di posizione organizzativa numero 2 Servizi Finanziari, Carmelina Meni. Ed infine l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l'anno 2017 su proposta del responsabile della posizione organizzativa numero 3 Santo Guadagnino. I consiglieri che sostengono il sindaco Ettore di Ventura, i sette esponenti del PD e sette di Uniti per Canicattì saranno chiamati quindi ad esprimersi su questi argomenti e alla prova del 9 della tenuta di maggioranza dopo appena sei mesi dall'insediamento della Giunta. Intanto questa mattina sono stati pagati gli stipendi alle tredicesime ai dipendenti del Comune. Domani i soldi saranno già accreditati sui conti correnti personali degli impiegati, quindi almeno a Capodanno si potrà festeggiare, visto che a Natale i dipendenti sono rimasti senza soldi. La Giunta ieri ha approvato la delibera che richiede l'aumento al massimo dell'anticipazione di cassa da parte del tesoriere, in questo caso la banca Unicredit. Da 5 milioni e 800 mila euro si passerà a 9 milioni e 800 mila euro e naturalmente sui 4 milioni in più si pagheranno interessi salatissimi e a carico dei cittadini contribuenti. Consigliere comunale di Canicattì, Maria Congettalo giudice della lista civica Canicattì di parte, Giuseppe Alaimo e Salvatore Carusotto, Carusotto di Nuova Canicattì, intervengono in merito ai lavori da effettuare presso l'edificio di via Lende che dovrà ospitare gli alunni delle scuole Rapisardi e la Carruba. I tre esponenti dell'opposizione invitano il sindaco Ettore Di Ventura a rispettare la scadenza concordata per la consegna della struttura adibita al presso scolastico in quanto non è possibile accettare ulteriori ritardi rispetto alla data di scadenza precedentemente fissata e ripetutamente ritardata per il bene dei nostri piccoli con cittadini in primis che si trovano a dover frequentare la scuola in orari nei quali il ritmo di apprendimento subisce sostanziali battute di arresto a causa della loro stanchezza e ne limita fortemente la possibilità di frequentare attività extracurriculari, a coltivare le proprie passioni, a poter andare al catechismo come tutti i loro coetanei. A tutto ciò si aggiunge il notevole disagio arrecato alle famiglie che spesso a causa degli impegni lavorativi si trovano in serie difficoltà nella gestione familiare. Breghiamo il sindaco Ettore Di Ventura qualora l'amministrazione comunale non riesca a trovare tempestive e concrete soluzioni di consentire ai richiedenti di adoperarsi al fine di trovare valide alternative che rispondano alle esigenze dei piccoli interessati. Il governo regionale sospenda l'iter avviato per la costruzione dell'impianto di biometano incontrerà da Grotta Rossa tra Canicati e Caltanistetta e concertare con i rappresentanti dei produttori agricoli soluzioni che salvaguardino la produzione agricola locale. Lo dichiara il deputato dell'opposizione all'Ars Nello Musumeci che ha presentato un'interrogazione parlamentare al Presidente della Regione, all'assessore regionale all'energia e all'assessore all'attività produttiva in merito all'accordo concluso tra la Regione e un'azienda privata per la realizzazione di un impianto. La zona interessata si legge nell'interrogazione di Musumeci è tra le porzioni più pregiate di superficie agricola del territorio nisseno. Nell'area in oggetto sorgono più di 500 aziende di varie dimensioni dedicate alle culture intensive di pregio con una produzione agricola che sfiora i 36 milioni di euro corrispondente ad una quota significativa del PIL del territorio di Caltanistetta. Occorre ascoltare i produttori, prosegue Musumeci, che lamentano il rischio di un possibile inquinamento delle falde acquifere che potrebbe essere causato dal percolato prodotto dallo stabilimento di biometano e il danno alle colture dai fumi prodotti dalla combustione. Strade da monitorare in provincia di Agrigento ci pensa l'associazione Maria Amico del Presidente Claudio Lombardo che ieri si è occupata del ponte sul torrente Canne sull'ex statale 115 in territorio di Siculiana ma di competenza adesso del libero consorzio comunale di Agrigento, l'ex provincia. Il leggiamento superficiale, dice Lombardo, è caduto da tempo, i ferri esposti alle intemperie sono corrosi e in qualche caso sono spariti, mancano del tutto le banchine laterali e chi passa rischia di cadere giù. I nostri tecnici affermano che non è ancora caduto perché il suo arco funziona al contrario ed è tenuto in vita solo dalle travi superiori che funzionano da attiranti. Probabilmente non appena gli passerà sopra un carico pesante o qualche trattore con le caratteristiche vibrazioni il ponte crollerà. E con una ordinanza del funzionario tecnico responsabile del settore infrastrutture stradali dell'ex provincia Michelangelo Di Carlo è stata disposta da questa mattina la chiusura del ponte sul torrente Canne lungo la provinciale 75 Siculiana a Montallegro. La chiusura è stata disposta come misura esclusivamente cautelativa per l'esecuzione delle opportune verifiche strutturali anche se il sopralluogo eseguito dai tecnici e dai cantonieri del libero consorzio comunale ha evidenziato che la struttura portante del ponte si presenta in buone condizioni e non è assolutamente pericolante mentre alcuni elementi sovrastrutturali in particolare sulla parte superiore della campata presentano diversi distacchi di calcinacci che non influiscono assolutamente sulla struttura. Si tratta di uno dei ponti già da tempo monitorati dal libero consorzio che ha elaborato da tempo diversi progetti per la ristrutturazione. Gianni Marianelli è stato nominato coordinatore cittadino di Sicilia Futura per la città di Porto Empedocle. Sono sicuro che la scelta di Marianelli a Porto Empedocle sia quella giusta dice il portavoce regionale Michele Cimino, una persona sempre vicina alle esigenze della città capace di ascoltare il territorio Sicilia Futura e Porto Empedocle da oggi avranno riferimento importante. Gianni Marianelli è la persona giusta per interpellare le esigenze di una popolazione che non sta vivendo periodo sereno, afferma il coordinatore provinciale Paolo Ferrara. Nel suo intervento Marianelli commosso per la nomina ha dichiarato sono lusingato per la carica e per la fiducia posta nella mia persona. Sono convinto di non tradire la fiducia che mi è stata accordata. Ad Agrigento non si placa la protesta degli insegnanti. L'Associazione degli insegnanti in movimento si è ritrovata questa mattina davanti alla sede dell'Inps per richiamare ancora una volta l'attenzione sulle problematiche inerenti, gli abusi della legge 104 che tutela le persone affette da disabilità o che hanno disabili di qualsiasi tipo all'interno del proprio nucleo familiare. Spesso gli abusi hanno consentito scavalchi in debiti a danno di altri insegnanti. Secondo i manifestanti ricorrono false aspettative e poca chiarezza da parte dell'Inps che atterrebbe all'oscuro il suo lavoro. Dovevano essere rifatti a tappeto tutte le visite ai circa 2.000 beneficiari della legge 104, invece sono stati soltanto un migliaio o quelli sottoposti a verifica da parte della Commissione Medica dell'Inps. Delia come luogo della memoria culturale. Si potrebbe interpretare così la recente decisione del sindaco, già Filippo Banchieri, di collocare delle pietre nel centro urbano che mostrano scolpite alcune frasi celebri. Un luogo della memoria, tuttavia più reale che reale, costruito sulla base di un itinerario definito appunto dalle frasi dei personaggi della cultura scelte dopo un sondaggio cittadino. La prima pietra è stata collocata nella piazza Madrice, nel cuore del centro storico. Mostra una frase di Charlie Chaplin, bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze perché l'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti. Frase come questa, al di là della loro funzione decorativa, danno il senso di marcia non solo di un'amministrazione comunale ma anche di un'intera comunità, dice il sindaco Banchieri. A Licanta è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Comune e le associazioni che operano sul territorio per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto su tutto il territorio comunale. Vediamo il servizio. Dopo il presepe provocatorio dove Gesù Bambino è nato con una mascherina in mezzo all'Ethernit allo scopo di avviare una proficua attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini nell'ottica di un più ampio progetto di promozione all'interno del territorio comunale di tutte quelle attività che tutelano il rischio della presenza dei materiali contenenti amianto, l'amministrazione comunale di Licata ha sottoscritto un protocollo d'intesa con alcune associazioni maggiormente impegnate sul territorio. A rappresentare il Comune il sindaco Angelo Cambiano e l'assessore alle problematiche ambientali Vincenzo Ripellino. I soggetti coinvolti oltre al Comune sono l'associazione a testa alta, il centro 3P, Cittadinanza Attiva di Licata, Collettivo Controvento, il Comitato Civico Fondachello Playa, la consulta delle associazioni del volontariato, la rete, lega navale sezione di Licata, Licata Benecomune, WWF Sicilia, area mediterranea, sede operativa di Licata. Il protocollo d'intesa spiega l'assessore alle problematiche ambientali Vincenzo Ripellino si propone di creare un sistema sinergico di collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni aderenti all'iniziativa per mirare all'avvio di un'attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per informare sui rischi che la presenza di materiale contenente amianto comportano per la salute e la tutela ambientale, compilare e consegnare le apposite schede per l'autonotifica da parte dei soggetti privati, proprietari dei siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto e da parte di coloro che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto nel territorio. Mentre il Comune si farà carico di produrre e garantire la diffusione dei moduli per l'autonotifica ad opera dei cittadini e di mettere a disposizione delle associazioni e firmatari del protocollo d'intesa gli spazi e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle varie iniziative ed attività proposte dal documento. I firmatari, concludono l'assessore Ripellino, si impegnano ad avviare attività informative e di sensibilizzazione presso le scuole, le parrocchie, le associazioni, i comitati, i circoli, le piazze e le vie cittadine, organizzare eventi o convegni in materia ambientale con particolare riferimento ai rischi legati all'amianto, alla progettazione grafica e presentazione di slide su amianto, rischi sulla salute e ambiente e su censimento dell'amianto, obblighi e sanzioni. Alla realizzazione di campagne informative sui principali social network per rendere la cittadinanza consapevole dei rischi per la salute e l'ambiente. L'adesione al protocollo rimane aperta per eventuali altre associazioni, organismi vari o singoli cittadini che vorranno inserirsi nel progetto. Pugno duro a Sciacca contro chi abbandona i rifiuti nel territorio comunale. Una multa da 200 euro che arrivano a 350 euro per chi non conferisce gli ingombranti nel centro di raccolta di contrada per Riera. Sono alcune delle sanzioni che sono state inasprite a Sciacca per colpire comportamenti non consentiti da diverse norme. La maggiorazione delle sanzioni amministrative per trasgressioni a norme di ordinanze sindacali e regolamenti comunali è stata approvata all'aggiunta comunale su proposta del dirigente della Polizia Municipale Francesco Calia e del vicecomandante Salvatore Navarra. Le ordinanze e regolamenti cui si fa riferimento sono quelle relative al conferimento dei rifiuti, alla raccolta differenziata, alla somministrazione di alimenti e bevande, al mercato settimanale di San Michele, alla pulizia e a terreni privati incolti, alla conduzione e ai luoghi pubblici dei cani. Sport, nuovo e intenso allenamento allo stadio Esseneto per i giocatori biancazzurri dell'Agragas agli ordini di mister Raffaele Di Napoli e del suo staff. Prosegue quindi in questo modo la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Lecce di domani alle 14.30 allo stadio Esseneto di Agrigento per la seconda giornata di ritorno del campionato di Lega Pro Girone C. La squadra ha prima lavorato sulla rapidità per poi passare alla tecnica e alla tattica. Mister Di Napoli ha approvato schemi e uomini durante una partita a campo ridotto. Lavoro differenziato e personalizzato per il capitano Marino, l'attaccante Salvemini e l'esterno offensivo Zanini. Tutti gli altri sono in buone condizioni fisiche. All'allenamento hanno assistito l'amministratore delegato Peppino Tirri, il direttore sportivo Totto Catani, il team manager Salvatore Incorvaia e il dirigente accompagnatore Biagio Nigrelli. La seduta si è svolta a porte aperte ed è un nutrito gruppo di tifosi assistito all'allenamento. Campionato di promozione fermo per la pausa natalizia. I giocatori riprendono la preparazione e sui Monti Sicani esplode la polemica per la mancata partecipazione del Camerat al Memorial Scrudato. Vediamo. Mentre il campionato di promozione è fermo per la pausa natalizia esplode la polemica sui Monti Sicani tra Camerat e San Giovanni Gemini per la mancata partecipazione annunciata dal sudalizio cammeratese al secondo Memorial Alfonso Giovanni Scrudato. La decisione di non partecipare al Memorial, scrivono i dirigenti del Camerat, è stata presa dopo una riunione ed una attenta valutazione della situazione che si è venuta a creare a seguito della partita della categoria allievi provinciali tra San Giovanni Gemini e Camerat, disputata lo scorso 19 dicembre allo stadio comunale di San Giovanni Gemini e anche alla luce di quanto accaduto lo scorso anno, sempre in occasione della stessa manifestazione commemorativa. riferendoci ai fatti più recenti, le premesse per una bellissima partita di sport c'erano tutte, grande accoglienza della società del Gemini, foto di gruppo delle due squadre, il ricordo dei cari compianti Giovanni Alfonso Scrudato, fiori e applausi. Ma al fischio d'inizio e durante l'incontro le premesse sono state disattese, vuoi per l'entusiasmo eccessivo, vuoi per l'attenzione di giocare un derby così sentito, gli animi in campo e soprattutto sugli spalti si sono surriscaldati eccessivamente venendo meno le condizioni che stanno alla base del calcio, per come lo intende la società Camaratt, che da sempre della lealtà, correttezza e signorilità ha fatto proprio vanto. La sottoscrizione del decalogo del Fair Play pubblicamente consultabile ne è una dimostrazione. Il Camaratt, ritenendo che la manifestazione potesse trasformarsi di nuovo nel campo di scontro ideale di pochi esagitati, ha preferito non prendervi parte in modo da dare un segnale forte a chi ancora pensa che il calcio possa essere veicolo di violenza. E mentre si litiga a Camarata, i calciatori riprendono lentamente la preparazione atletica dopo le feste di Natale. Il Raffadali del presidente Giacomo Lomascolo si gode il primato in attesa della prima gara del 2017 contro la Nova Sancis in trasferta domenica 8 gennaio. L'avversario è sicuramente quotato, darà del filo da torcere alla capolista, ma gli uomini di mister Alfredo Mattina, soprattutto dopo gli innesti di Francesco Puleo, classe 97, esterno offensivo proveniente dalla Folgore, Peppe Valenti, ex Libertas che ha completato il già forte reparto offensivo, sono galvanizzati e difficilmente cederanno lo scettro. Dopo 15 giornate la squadra del Raffadali ha conquistato 40 punti, frutto di 13 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. A tallonare il Raffadali ci pensa il canicattì di mister Giovanni Falsone. All'appello mancano tre punti, proprio quelli della sconfitta con il Raffadali per 1-0 e tante recriminazioni. I biancorossi si ritrovano in seconda posizione a quota 37 punti, frutto di 12 vittorie, un pareggio e due sconfitte. La squadra canicattinese nelle ultime tre partite ha fatto 11 gol senza subire nessuna rete. Alla ripresa del campionato il 2017 si aprirà con la trasferta a Trapani contro il Cinque Torri in un orario inconsueto, si inizia quindi alle 18.30. Terzo posto solitario per la Libertas da Calmuto, squadra rivelazione del torneo. Mister Angelo Consagra ha seminato bene e i frutti si iniziano a vedere. La prima di ritorno sarà in casa al Comunale di Grotte contro il Partinico Odace di Mister Mimmo Bellomo. Completano il tabellone, il derby tra Atletico Ribera e Castel Termini, la trasferta a Campobello di Malzara della Gattopardo e la sfida a Casalinga del Ravanusa Colselemi. Venerdì 30 dicembre dalle 17 alle 21 lo spazio creativo dedicato al combiato artista canicattinese Vincenzo Curto e realizzato per volere della moglie Graziella Caruso Curto resterà aperto e potrà essere visitato dai cittadini. Lo spazio creativo si trova nella residenza della famiglia Curto in via Mazzini alle spalle di piazza 4 novembre a Canicattì. Oggi alle 19 nella chiesa del Salvatore a Licanta si terrà il terzo concerto di Natale organizzato alla scuola Cantorum Majorana diretta dal maestro Caetano Torregrossa. Il programma prevede la partecipazione dei solisti, il tenore Torregrossa, il mezzo soprano Lucia Caci, Voce Bianca, Rosario Amoroso, presenta Silvana Gallo, partecipano anche gli allievi del gruppo strumentale Maestri Majorana e Cassano. Ci sono degli aggiornamenti, due ragazzi di Porta Empedocle minorenni, uno di 15 anni e l'altro di 16 sono stati segnalati alla prefettura quali consumatori di sostanze stupefacenti. I giovani di buona famiglia stavano probabilmente accingendo al consumo della stessa quando sono stati scoperti e denunciati. Ancora cronaca per quanto riguarda le chiamate della Capitaneria di Porto, c'è una chiamata quindi per domani alle 10, una chiamata d'imbarco per domani alle 10, un marittimo con la qualifica di marinaio per completare l'equipaggio del motopesca Agostino Padre in arrivo nello scalo di Porto Empedocle. I marittimi interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni prima della chiamata d'imbarco alla Capitaneria di Porto Empedocle. Vi lascio invece con il meteo, svolta del meteo in arrivo, dopo il picco del caldo anomalo di questi giorni le temperature subiranno un brusco calo. Se Natale è stato mite su tutta Italia, Capodanno sarà più freddo con un calo delle temperature di circa 6-8 gradi centigradi. Verso la fine dell'anno spiegano gli esperti del meteo è atteso un cambiamento delle masse d'aria che provenendo da quadranti più freddi orientali determineranno un sensibile calo delle temperature che sarà più marcato al sud e in montagna fino a 8 gradi in meno. Questo significa che su molte regioni, compresa la Sicilia, le temperature torneranno su valori prossimi alle medie del periodo. La notte di San Silvestro si preannuncia fredda in tutta Italia con temperature allo scoccare nel nuovo anno di meno un grado per esempio a Milano, Venezia e Firenze, 2 gradi in meno a Bologna e Torino, 3 gradi a Bolzano e l'Aquila, 0 gradi a Roma. Più mite invece sarà il tempo al sud ma a Palermo e quindi in Sicilia si toccheranno i 10 gradi. Farà freddo comunque visto che siamo abituati a temperature più alte. Tutto, il nostro telegiornale finisce qui. Grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.